Salve a tutti ragazzi, sono i NXXer di Minecraft, benvenuti al mio primo e inimitabile live! Allora, si è iniziato anche se è un po' in ritardo ma non fa niente. In questo live parlerò un po' del canale e di cose così. Quindi prima di tutto cosa c'è da dirvi? C'è da dirvi che farò un canale per i vlog, questo è assicurato che farò un canale per i vlog, poi continuerò la serie su Super Meat Boy, farò video su APB Reloaded, poi anche giochi di musica tipo Step Mania e Open ITG, giochi musicali, poi Team Fortress, se qualcuno vuole giocare con me lo continuerò, farò qualche altro video, poi Borderland 2, potrei fare qualche video, potrei proprio, poi c'è questo gioco, c'è questo gioco qui, vi fido a vedere? Slender, che è una merda, è troppo difficile, vabbè. Allora, vediamo se c'è qualcuno che ha commentato qualcosa. Ok. Incomincio da quanti spettatori? Sei spettatori, mamma mia! Grazie a tutti i ragazzi, grazie a tutti i sei spettatori, grazie, grazie, grazie. Allora, incominciamo subito questo live facendo una partitina a Minecraft. Vabbè, ciò mai che ho però, vi faccio vedere che ho veramente Minecraft Premium, qualcuno mi diceva che no, non è vero, tutto non l'ho comprato, e invece l'ho comprato. Se si apre forse, vedi, XXR di Minecraft Password. Ok, lo chiamoci. Perfetto. Ora vedete cosa ho su Minecraft. E ho la beta 1.8.1, vecchissima. Perché mi sta chiamando una persona su OVO, ma non posso risponderla. Perché sto facendo il live. Quindi saluto Ignazio e... Ho saluto pure su OVO, che deve dare sempre fastidio. Eh, vabbè, ragazzi, è un po' stupidino. Mi sta scrivendo. Non ce l'ha fatta niente. Dai, ok. Lo stanno facendo apposta. Bravissima qui, ragazzi, bravissimi. Bravissima qui, ragazzi. Mi sono riscaldi da OVO. Allora, vi stavo dicendo... Cosa ho in questo Minecraft? Aggiornata la 1.8.1, quindi pensate... Pure Skype... Occupato... Allora, me hanno detto di aggiornare la pagina del live così vedo i commenti. Vediamo. Ah, qua sono i commenti! Lol. Vediamo un poco. Skyrim, giusto! Giusto, una serie su Skyrim. Bravo, Mr. Semolo 33. Saluta Michele in Ciazzuovo. Ciao Michele, carissimo amico mio. Per Luigi... Ciao, per Luigi. Ciao, 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 per Luigi, ciao. Dicci la password. Non ci tengo. Vediamolo. Lo scostro. Ah, no, non è spam. Allora... Andiamo qua. Vi faccio vedere un po' cosa... Ah, questa mod. Che sarebbe la mod delle armi. Vedete... Quante armi, pochissime. Vabbè, a parte gli scherzi. La mia preferita è l'SG552. Con Z si mira... E poi con il tasto sinistro... Oh, fa schifo, lo so. Ma la vera è la più forte, non ci crederete mai. La più forte non è né il bazooka né niente, ma è la Desert Eagle. Guardate, con un colpo. Uccidi tutti? Con un colpo uccidi. Uccide. Uccide, uccide, uccide. Ma ragazzi, sono veramente emozionato tantissimo. Il mio primo live. Poi farò un tutorial su come installare questa moda naturalmente. Poi, che altro c'è di nuovo? Ci aggiunge tantissime armi. Ci aggiunge... La Smoke Grenade, che sarebbe la bomba fumogena. Guarda, guardate. Il fumo di Minecraft, ragazzi. Non l'avevate mai vista, l'avete visto. Il fumo di Minecraft. Mamma mia. Allora, poi, che altro vi posso far vedere? Ah, tantissime torrette. Sembrano all'apparenza tutti uguali. Però, per ogni torretta cambia il modo di sparare. Per esempio, vi faccio vedere... Se adesso prendo qualche uo... Wow, non so, neanche le uove nella 1.8. Eh, ma che schifo! Vi faccio vedere questa qua che è bellissima. Grappling gok. Non, un gold coin. Grappling gok. Ok. Allora, per esempio, noi vogliamo salire qua sopra. Però, come potete vedere, non ce la facciamo. Se ne buttiamo questo grappling gok... Sì, va beh, mira di merda. Vabbè, cambiamo acqua, cambiamo acqua. Ci fa questa specie di... Di corda su cui possiamo salire. È veramente bello. Una scala della Skype. Ah, quindi Mattia e Mr. Samuel 33. Caro Mattia, hai veramente ragione. Posso veramente fare una serie su Skyrim. Hai ragione. Allora, cos'altro posso provvedere di questa mod? Di questa... Ah, le sticky granite. Sono normalissime granite, solo che... Hop, si attaccano, vabbè. Si attaccano anche... Guarda, qua di regola... No, no, vabbè, fa niente. Eh, si attacca... A K47. Per esempio, i mob, se prendo una mira... Sì, si è attaccato, ho visto. Si è attaccato la gamba. Poi, gli faccio vedere... Ah, questo qua che è bellissimo. Vabbè, prima di tutto l'auto... Che si chiama ATV. Noi saliamo... E va anche in acqua. C'è una cosa spettacolare, ragazzi. Sì, che manco va bene. Macchina di cinesi. Ok. Poi... Vediamo il laser. Il laser. Che si utilizza con la Redstone. Guardate. C'è una cosa fighissima. Ah, la sabbia la fa diventare vetro, naturalmente. La terra la rompe, sì. Poi, vediamo la legna la rompe. No, fa prendere fuoco, ok. Ok, benissimo. Farò un tuto, anzi... Non lo posso fare il tutorial, sapete perché? Perché l'ha già fatto un amico a mio il tutorial. E grazie a lui l'ho fatto. Quindi... Vi darò il link di questo youtuber che si chiama Sarido Style. E potete vedere il suo video. Allora, il binocolo, il telescopio. Che sarebbe un normale telescopio che fa lo zoom. Che è un modo edificio da manovrare, veramente. Vabbè. Poi il gelgetto, perché non so come si usa. Si mette qua, però, non vuole, cioè... Non lo so. Starà qualche tasso, però io non lo conosco. Ho so che adano tutti i tasti, ma non fa niente. Vabbè. Allora, vediamo un po' i commenti. Aggiorniamo la pagina. Cos'è Pino Sexy? Che cos'è Pino Sexy? Laghi. No, non laggo se è il video che laggo. Ok, vabbè. Volevo, voglio dire, se... Lagga da bestia. Eh, non è proprio colpa mia. Guarda. Ripita il server. Beh, inizio, se me lo vuoi dare, me li invii tramite Facebook. No, insomma, no. No, se vi diametro da qualche parte, non so quando. Sgancia la password. Vediamo quanti... Sei spettatori, ragazzi. Grazie mille, veramente. Grazie mille, sei spettatori. Cos'è la Gulliver Mode? A vedere su internet. Gulliver Mode. La Gulliver Mode. Non so che minchia è. Allora, però con quale Minecraft... Vediamo, vediamo, vediamo... No. Possiamo andare più giù. Sta per la... 1.1.8 o no. Beh, sta per la 1.3.2. Vediamo. Vediamo un video, dai. Ma tolta pubblicità è... Ma tolta pubblicità! Ma tolta pubblicità! Oh, mio... Dio. Oh, mio... Dio. Oh, mio... Dio. Ah, sono le pozioni che si danno per far ingrandire. Dai, sì, non mi interessi. Guardate qua, la spada! Oh, tu! Ah, no, è lui che appena noi siamo piccoli. Bellissima! Dai, vediamo se... Trovo il link... No, spero. Per la 1.3.2. E' lo stesso, credo. E' il link del download sarà sicuramente sotto il video. Ehm... Get... Ehm... 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 Live... Bravo, mister Semo. La Enica Sersu mi ha frantumato le palle, bravo. Chi è Pino? Chi è Pino? Chi è Pino è sexissimo, boh? Chi è Pino? Non lo so. Sette spettatori! Mamma mia, ragazzi! Sette spettatori! Non ci posso credere! Sette spettatori, mamma mia! Allora, ragazzi, sicuramente... Ehm... Ve lo prometto... Vabbè, ve lo prometto che... Nel prossimo live vi farò vedere la... Come si chiama? Gollimon Mod, mi pare. Vabbè, sì, mi pare di Gollimon Mod. Gioco a Microvolt. Ma, raga, non so se io gioco, cioè... Si vede anche se a schermo grande, si vede su live. Non lo so, ve lo chieda a voi. Perché comunque ci gioca a Microvolt. Sono troppo Powa, quindi... Ma, sull'entrò! Fatemi sapere, raga. Allora, così posso far vedere. Oh, qua. Chi diamo Minecraft? Basta Minecraft, basta. Basta, basta, basta. Basta... Ehm... Questa li posso far vedere. Sì, sì, si vede di regola. Anzi, no, vi voglio far... Voglio far vedere... No, non dite queste parole. No, non dite queste parole. Un'altra parolaccia e vi banno. Allora, vi posso far vedere una partita a... Allo Step Mania 5, ragazzi. Step Mania 5. Ci metterò un po' a caricare, perché da sé che non apro comunque. Ti ricordi Slender Multiplayer? Certo che mi ricordo Borg Nice. Mi ricordo, ce l'ha ancora, mi pare. Mi sembra che ce l'ha ancora. Comunque... Fai una serie su Slender. Ma chi è MS Gameplay Tutorial? Boh, non so chi è. Si caca su Slender. Oh, ragazzi, ancora siete spettatori, vi voglio veramente tanto bene. Perché è scritto, no, ma se meno vantotto? Che cosa hanno? Comunque, vorrò vedere una mia partitina su Step Mania. Come sono bravo. Sono pronto. Vediamo, si vede. Sì, si vede. Sì, spettatori. Oh no, sette, sette, sette. Grazie, grazie, grazie. Allora. Ha quasi finito di caricare lo Step Mania. Ok. Perché è tutto nero? Schermo nero? Ok, vediamo se si vede. Ok, ragazzi, si vede. Quindi facciamo una bella partita allo Step Mania. C'è volume a zero di Step Mania, wow. Non posso giocare così. Lo metto a 10, ok. Ah sì, Michele. Michele, sì, ma la facciamo. Mi dispiace ma... Ti ho bloccato perché... Adesso ho troppe parolacce. Ah, comunque... Vi faccio vedere una canzone che io amo tantissimo. Che si chiama... Gianni B. Goode. La mettiamo a medio... E per due... Vi faccio vedere un po' come sa Powa. Ok, ragazzi. Partita la Step Mania. Mettiamo un maxi schermo. Ok. tu 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 oh milagra però ce la faccio lo stesso da quanto tempo che non gioca questo gioco mi si abito ad oramai a giocare a sta l'open itg si sente l'audio credo di sì di regola o no no mi pare di no perchè non ha messo il messaggio stereo comunque conoscete sicuramente la canzone questa canzone è la mia preferita su questi giochi ah ragazzi voglio dire una cosa come mai avevo perso tanti iscritti da avere 31 iscritti 25 vado stamattina 25 iscritti o non lo so comunque visto come sono poco su questa gioca ha sbagliato la fine che schifo che schifo che schifo che schifo che schifo ma dopo che schifo quanto ne ho saltato oh salto bene dall'inizio alla fine ok ci diamo stepmania che schifo vabbè no borg counter strike è quello in live c'è però raga o ignazio michele mi dovete dare il link da acqua da youtube link del gioco perchè io ce l'ho sul blocco nude solo che sul blocco nude sono le password di tutto quanto quindi non posso darvele un chat su uovo con noi vabbè ragazzi volete vi posso anche aggiungere al live se volete entrare nel live ditemi voi come volete io so che ce la chiamo accupare volete la raga no 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 mo no no vabbè allora vi do il faccio copia lo do tramite uvo raga come si fa ok ragazzi vedete un secondo questa foto che do un attimo il link su uvo a mie amici si su uvo a mie amici 1 2 e 3 ecco qua ragazzi questo è il link entrate ok aspettiamo che qualcuno entri no fammi rimettere online su uvo che mi stavano scrivendo ha sexy pigiamino per luigi cos'è bot 2 borderland 2 dc a me il link da me te l'ho dato non so come si fa michele clicca sul link ed entra fai entra e entri nel live ci vuole tanto no 5 spettatori solo dai ragazzi facciamo una super partita counter strike borgo e link per entrare ok però ragazzi basta che è entrato qualcuno c'è non mi fa come non mi fa aspetta invito io eh eh e come si fa ok allora ignazio si chiama ignazio amo di eh qua dei due bellissimo non lo so fare ok ignazio allora vabbè ragazzi o ignazio su uova quindi non lo potete sentire eh non ti possono sentire ok saluti da ignazio quindi ignazio facciamo una partitina su counter strike e mi fate aggiungerli tu allora vediamo se posso mettere il mi sa serio ok ragazzi parlate ciao a tutti ok vi sentono vi sentono allora vediamo se posso mettere il ok ragazzi parlate ciao peppo ok vi sento no vi sento ciao a tutti ah se perchè sento l'ipo allora vediamo se posso mettere il wow ragazzi no così non va bene no così non va bene allora chiamolo 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 oh ragazzi no così non va bene no perchè sento l'ipo porca puttana io è un casino totale allora chiamolo no ma dai aiuto ok adesso da là non mi sentono più allora borg ci sei allora borg ci sei mamma mia sentiamo non si sente proprio no raga dai non posso parlare su uvo datemi se mai il link del gioco tramite uvo ma non posso parlare quindi inviatemi il link su uvo ma non posso parlare mi dispiace buon 2013 a tutti ragazzi non vi ho fatto auguri sul canale però auguri si attiva il suono di youtube come si spettatori come si spettatori ragazzi sei spettatori ok grazie michele ora ragazzi mi dovete dare no gnazio non posso parlare ora ragazze si ok grazie domenica me l'ha già dato mi ha già dato michele il link comunque mi dovete dire dove entrare chiostra la partita prima di tutto allora facciamo così andiamo sul nostro canale vediamo se sta quel commento tu io lo sto io che la storia chiesto rispondi mi può conoscerlo si per leggi la conosco black ops 2 ma non 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 funziona questo computer di cinesi che ho non mi funziona black ops 2 ho sto io bravo domenica stato credo sia bravo 8 spettatori non ci posso credere ragazzi ah visto che siamo già in tanti vi voglio fare veramente i miei più sentiti auguri di capodanno oggi è il secondo però non ho avuto proprio il tempo di caricare il video per il nuovo anno quindi vi faccio veramente i miei più sentiti auguri e vi voglio bene ragazzi voglio tutti bene ho cinque spettatori siamo scesi vabbè dai siamo cinque quattro spettatori dai non fate così allora cinque spettatori ok per noi non lo conosce che è più stopido allora vai in europa la map si chiama derek solo coltellino ok ragazzi europe nero perchè non lo trovo dopo si chiama d3 no oltre un altro uso non lo trovo domenico non trovo sicuro che ne europe no mi dispiace non c'è con d3 non c'è con d3 fammi sapere perchè devo stare muoviti aspettiamo che domenico poste la partita sei spettatori mamma mia grazie ragazzi si per il giro non ce l'ho quindi non so giocare quindi normale che so scarso ho fatto vediamo no non c'è ma neanche co colpa ecco 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 ok ragazzi si vede vediamo se si vede metto schermo piccolino schermo grande metto schermo piccolino dai ok allora ci compriamo un'arma e andiamo a fare il culo a quei nerd dai ok mamma mia già facciamo 3 kill ragazzi le persone laggano tutta forza derek laggi per chi non lo sapesse derek per chi non lo sapesse derek e domenico blackwall e michele mi pare credo giusto non lo so sbagliando forse ragazzi siamo troppo bravi in questo gioco killed by derek grazie grazie mille oh no vabbè ragazzi provo a vedere metto schermo intero così vediamo se se si vede vediamo se si vede no non si vede ok ok allora no perché ho fatto il tuo segno sbagliato vedete come sto oh l'ho ucciso ok allora ragazzi ce la possiamo rifare ragazzi noi siamo forti e quindi siamo poco quindi ce la possiamo fare ok ok kill by derek sempre derek m camperoni dai vediamo un po 5 spettatori peppo che combini chi sei da mister paschi chi sei? fammi sapere chi sei e ti posso rispondere come di far sapere chi sei e chi è questo qua coltellino? annaccia sette munizioni solo grazie black vabbè dai bella kill vediamo un po' indovina non lo so dimolo veramente tu comunque tu aspetta borg scrivi d3 r3 d3 r3 lo devi scrivere in europe se vuoi entrare d3 r3 si chiama derek quello che ho fatto la partita quindi la chiamata così quindi quindi creo dopo oggi sono sicuro al 100% che creerò il canale per i vlog i vlog di xxr di minecraft bravo derek vediamo un po' tu mi conosci giocato sul tuo telefono e te l'ho scaricato più volte e tutti me l'ho scaricato il telefono più volte dimmi chi si tutti me l'ho scaricato il telefono più volte sto per sparare un nome ma non credo che sia tu quindi fammi sapere chi sei annaccia respawni merda qui dai la nebbia ai ragazzi la promessa che mi farò è che per il prossimo live metterò il cola modo che mi avete detto quindi bella questa partitella mi sta divertendo tantissimo 5 spettatori sono sempre buoni 5 spettatori voi mi sostenete e io vi ringrazio vi voglio tanto bene e a breve creerò un bel pacchetto minecraft bel pacchetto metterò un po' di mod cercherò di farla la versione più aggiornata possibilmente vedrò un po' tutte le mod che posso combinare contemporaneamente nella stessa nella stessa minecraft nella stessa versione di minecraft ragazzi sto sto facendo il po' di brutto ho fatto 25 kill vediamo se mi ha risposto ho capito ho capito ho capito ho capito ciao 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 mi sono dimenticato il tuo nome porco 2 porco 2 mi sono dimenticato il tuo nome porco 2 aspetta che me lo devo ricordare mi sono dimenticato vabbè sì ho capito che si comunque ah pasquale giusto? ho indovinato? ho indovinato? giusto pasquale? giusto? è quello il nome? che così buono lo so lo so grazie chi sei? chi è black? pippo il server è pieno eh non è colpa mia la prossima volta ci mettiamo d'accordo prima di fare un live e e facciamo una bella partita tutti quanti insieme pure agli altri voi delle spettatori che anzi youtube spettatori che volete fare una partita contro di me e contro my friend potete venire cioè me lo potete dire prima in un commento di un video anzi me lo scrivete sulla mia email che vi darò 5 spettatori ancora ah ignazio quindi black e ignazio black sta facendo tanti bel punteggio wow che 18 non si ha risposto giura che giura che ti sei dimenticato no comunque non sapevo che avesse un canale di youtube mi devo assolutamente scrivere comunque se sai su skype o su uvo dimmelo così possiamo parlare ok derek ok solo coltellino si è da derek si sono solo sono solo col coltellino ah oggi sono uno col coltellino bravo non posso parlare vabbè dai annulliamo il coltellino perché sono alcuni nerd che che usano le armi quindi dare che non possiamo mi dispiace pippo ti vuoi una sola coltellino cambiamo server ok dai torniamo niente da fare in questo live ragazzi come sto unando mannaccia vabbè usciamo da come si esce game live room ok quindi adesso ci dirà commento rimosso bella pippo allora domenico aspetto una una tua scritta un tuo messaggio che mi dici come si chiama il server vediamo un po' vediamo il canale del mio amico friend tv tema in casta e pascali mi scrivo la stessa oh o se server e porco dio lo fa ignazio e come lo chiamerai porco dio ok ma in europe sempre lo devi fare ok fai vedere il mio canale certo se mi dai link forse lo faccio vedere cioè dammi il link ho visto che se lo faccio vedere il canale di ignazio modio che sarebbe ah non ho visto l'ultimo video che ha fatto lo devo vedere assolutamente fa gioco fa video su openitg quel gioco di musica tipo anche quadruplo di sniper su counter strike mamma mia e questo è il canale di ignazio modio poi il canale di domenico mi deve dare il link assolutamente se no non posso farlo vedere domenico se ci sei da mili canale se ci sei da mili canale allora vi faccio vedere il canale di un mio amico che si chiama starido style tutorial style vabbè starido style che ha fatto il video su come inserire la sdks mod iscrivetevi perché merita veramente tanto è proprio veramente bravo 20 iscritti solo comunque iscrivetevi anche al canale di ignazio ora se domenico mi dà il link del canale glielo faccio vedere non l'ho fatta ancora ti va a micro volt eh ignazio non so se si vede se si vede lo posso fare con tutto il cuore ecco qua youtube ecco qua thunderdame 34 io sto iscritto ha solo 8 iscritti però veramente merita tanto perché anche lui fa fa giochi di open tg e fa anche video su chi non conosce fru chi non conosce fru tutti lo conoscono il che è questo qua lo youtuber di parliamo di videogiochi che è veramente bravo buon merito il mio link grave ragazzi scrivetemi anche a questo questo bel link Giuseppe Simone non so chi sia la costo antivirus che mi blocca sempre youtube vabbè quindi scrivetemi al canale di di thunderdame 34 che sarebbe il mio amico domenico quindi ok vi ho fatto un po' di sponsorizzazioni segnazio fa il server siamo tutti più felici ok a quanto stiamo non so non si può vedere chi è questo ma sa è questo qua il canale di michele che ha guardate zero iscritti mamma mia zero iscritti fatto ok ha fatto proviamo a vedere ok mi è promesso eh vabbè è ammesso sniper mi pare fa freddo allora usciamo dal lo schermo intero compriamo un'arma e facciamo autosegno perché mi si è baggato oh no 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 non mi si è baggato ragazzi volete fare solo coltellino oppure con le armi normali ah è stato disabilitando le armi eh mi ha disabilitato pure la mia 4a1 ok ragazzi sono coltellino si però aia aia come col giacchino ah e poi si può che era solo con le cose e dai vero che siete ditemelo prima fuck fuck derek fuck derek aia e lo sapevo solo sniper si dimmelo domani solo sniper e non mi prendi non mi prendi non mi prendi ah è morto no sacco d'altra parte eh l'ho ucciso paura alleanza aiuto no dai non l'avevo visto cioè già avevo in faccia non l'avevo visto manco ma perché mi spavano in mezzo no ma fa un bacio al naso allora mi compro un giacchino boom ah se con la santa il mio amico borgnais si ci siamo cissi contemporaneamente vediamo un po' live si due spettatori due spettatori what the fuck solo due spettatori perché ragazzi perché fate così perché solo due spettatori perché non mi volete più bene questo si sta comprando bella p bella black ah cinque spettatori ok ragazzi ok ok grazie ma quanti siamo cinque pibbo 4 stanno giocando su cs e infatti c'è uno spettatore solo diciamo dai mato nooo voli sponati in faccia a quello ho il culo lo stesso ci vuole tanta pazienza ragazzi tanta pazienza e muore mato derek 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 sempre lui no 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 sono un perla pensavo che stavo volando ho l'ho ucciso pensavo che stavo volando e domani mato bellissima questa kill madonna mia e questo muore credo si è morto black hole è morto ragazzi non so forse mi compro canto strike da steam forse ho detto forse che non so molto quanto costa pomma 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 no dai appena spawnato che palle pomma o che dammi il tuo nome di skype anzi aggiungi mito a mi chiamo ok ti ho inviato il mio nome di skype gigi mito c'è chi no neanche un cecchino aveva quello bello non mi ha visto quello che cacchio no mi si è baggato tutto mi si è baggato tutto mi si è boom chi era black il caro e vecchio black è morto eh dai domani ma dovevi sento vedere ah il mio primo live che bello ragazzi il mio primo live un cecchino dai no manco ho visto ah si mi è arrivata richiesto di contatto aggiungi i contatti ecco qua occhi da gente a gente i contatti che ho fatto io metto se la rischia madre su facebook mentre faccio live da ridere vediamo che kill vuole venire da dietro no dai madò 5 spettatori no no si è bloccato boom chi è tnt marwalks ah qua entra una persona tutta forza ho capito 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 come funziona qui capito dato perché sbaglio sempre bella pasquale ehm ok eh lo so eh già la mia connessione fa schifo si sta ancora registrando si ma non ti sentono comunque no comunque ragazzi cerchiamo di uccidere qualcun altro se no se no questo live non può andare avanti eh no 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 lagga no lagga eh eh più live ciao mo mamma mia l'ho ucciso senza mirare e ne uccide due senza mirare come si dice non mi ricordo vabbè ho fatto qualcosa che non so neanche spiegare ragazzi non ci credo il mio primo live sul canale che emozione eh vabbè dai il primo live si può capire staranno ancora festeggiando capodanno eh perdoniamoli ah si si è un mio amico mio amico eh bravo comunque domenico si dice no scope ah beh eh sono i miei amici che sono nerd quindi conoscono tutto vero domenico e infatti no 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 vediamo un po quattro spettatori wow tantissimi eh infatti inutile mamma mia quanti non scopo guarda che camperone si 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 assolutamente ah raga non so ho fatto questo line read lo volevo fare tantissimo tempo fa però sinceramente non l'ho fatto perché mi diceva che non avevo l'età per farlo ora non so perché me me l'ha fatto fare cioè oggi cazzeggiando ho visto che lo potevo fare e quindi l'ho fatto si è cresciuto non avendo un cazzo da fare tutto il giorno ho detto quasi quasi facciamo un live per youtube sono cresciuto eh si lo so questo live è venuto proprio a cacchio ho detto non so che fare che faccio che faccio faccio live ma cosa qua si è bloccato mamma mia double kill contemporaneamente si però non vale togliere i cecchini e non avvisarmi i.it il potere del capo di e derek è normale mi ha scritto che poter un canale io devo troppo che parla di videogiochi si se non è come fare a vedermi il video live boh perché si bloccano boh non lo so solo coltello eh di modo un po' ah se io che sto laggando credo si va ha fatto un volo uomis è rimasto 14 hp bella tnt stia parlare in dialetto di polignano spure sostosto sto gioco vergognatevi si lo posso far condividere timidino vabbè se vuoi lo posso fare ok ok eh 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 bravo borg derek non ho letto cosa hai detto cioè non ho letto cosa hai scritto per favore riscrivilo perché l'ho letto troppo tardi non ho letto cosa hai detto bene no 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 5 spettatori wow che sia un nerd perché anche nei videogiochi grazie grazie ignazio appena mi senti metti un po' le mitragliette basta con soccorre mette un po' mitragliette penso che tu sei lost vedi questo come se è buggato sei mi ucciso pur come si scrive su questo foto gioco lo credo anche io no 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 non lo so a con ix grazie dove ok mi ha messo il metro no Sì Ho bisogno solo l'AK47 Ce la faremo bastare Comunque Borg Tanto per sapere Tanto per dire Comunque laghi Cioè raga Da vedere come so bravo Quante che sto facendo Vabbè ragazzi Tutti voi Appena finisce il live Facciamo una chiamata Tutti quanti su Ok raga Vabbè qua dopo due anni si sente Vabbè Perché nessuno già Skype Se te lo metti pure tu È meglio No Che era sto rumore Era un fucile Che ero Il vostro XXR di Minecraft sta vincendo Oh yes Come si è finito pure la munizia alla cappa No, eh Eh, mi sono dimenticato Ah, canter strike online Vabbè, quello è una merdaccia Vero ragazzi, è vero che Zebo89 è una merdaccia? Ditelo No, non ha ragione E infatti Tutti quanti Ho scritto, Zebo89 è una merdaccia? Sì Grazie a tutti Grazie a tutti Ho cinque spettatori Lignatio si è disconnesso Perché si è disconnesso? Mi devo mettere occupato su Skype Eh dai, sono morto No, stavo, mi l'ho messo in linea Non mi sono messo occupato Problemi di connessione Ignazio Ignazio, hai un PC di merda È lezzo il tuo PC È potido, è lezzo Che sto facendo? Non lo so È morto È morto a gambe aperte È morto a gambe aperte È morto a gambe aperte Sì, saluto sul giugosivo, ciao Please, sniper No Sniper No Guarda Perché Eh no, l'ho ucciso Siamo sempre sui cinque spettatori Sui miseri cinque spettatori Ah, comunque Sono io il nuovo host Cioè, perché chi lo vuole sapere Sono io il nuovo host Della stanza Eh, lo scopo è zocoscopo di computer Cos'è Matrix Mod? No, fa schifo, Matrix Mod, no Ho meno la supervelocità dei personaggi Dire che metto cecchino Però non so come si fa Provo a vedere Perché poi il bello è Il mio messaggio è tutta la forza Weapon setting Come si fa Come fottutamente si fa Ah, ok Sniper Ok E togliamo La K47 Ok Ce l'ho fatta ragazzi Ho messo il cecchino Ho messo troppo da luce Grazie a tutti ho rivolguito i miei 24.000 che cosa borg 24.000 che cosa soldi no 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 tutti quanti ridatemi i miei soldi dai metto i miei miei massimo di specie ragama non posso farmi più niente ormai però devo mettere anche come si fa open setting no ho sbagliato come si chiama la pistola? di colmo siti con salario o non è uno lo so come metto basta 6 spettatori wow uno spettatore in più mi sono bugato pure ok ragazzi si cambia e si mette solo pistole non lo so ora ci fa solo pistole ok ora ci fa va beh ragazzi io direi di finire live qui un saluto da parte mia da parte di monica aspetta che vivono faccio sentire metto opzioni parla che ti sentono bella a tutti ragazzi dammi del mister paschi iscrivetevi al mio canale mettetemi piace al video vabbè ragazzi io e mister paschi pasco pasca vi salutiamo e ci sentiamo a un prossimo video ciao a tutti ciao 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 ciao